Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, nuovo video workout, oggi facciamo cardio 30 minuti, rapido, indolore, facile, let's go! Il workout di oggi è così composto, si tratta di 6 esercizi che faremo per 40 secondi on, 20 secondi off, quindi 6 minuti di mini circuito, che ripeteremo 5 volte, quindi sempre 5 uguale 30, 30 minuti di allenamento. Prima di iniziare questo workout mi raccomando fate un pochino di riscaldamento perché si andrà subito belli potenti dentro gli esercizi, quindi è bene essere ben caldi, io ho appena finito di fare il riscaldamento quindi sono pronta ad iniziare. Vi faccio prima vedere gli esercizi, visto che sono 6 e che dovremmo ripeterli e poi iniziamo a bomba. Primo esercizio, walking plank più jump squat, quindi parto da in piedi, scendo in plank, torno su, squat, salto, plank, torno su, salto. Mi raccomando quando arrivate qui tenete bene il core e non mollate giù, ok? Questo è il primo, secondo esercizio, molto semplice, torniamo in piedi, jumping jacks, quindi da qui, mi raccomando un movimento rapido, tenere bene l'addome, non è questo. Terzo esercizio, si torna giù, abbiamo 4 mountain climber più 2 plank jacks, quindi mi metto in posizione di mountain climber, ne faccio 4, 1, 2, 3, 4, torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo. 1, 2, 3, 4, torno indietro, apro, chiudo, apro, chiudo, 1, 2, 3, 4, ok? Poi, quarto esercizio, lo odio, front kick, sono già stanca, jumping. Quindi, dovete prendere un po' il ritmo, questo è un pochino difficile, perché anch'io ogni tanto da qui, praticamente. Ok? È divertente, quando poi si capisce, perché è un po' complicato. Poi, quinto esercizio, side to side kick through, ok? Quindi, ci vuole un pochino di spazio, mi metto giù, da questa posizione, passo un piede e cambio. Ok? E poi, sesto esercizio, high knees con barbie con rilascio mani. Quindi, lo faccio laterale, high knees, faccio 4, 1, 2, 3, 4, scendo in barbie, mi tiro su, superman, e torno su. 1, 2, 3, 4, scendo giù, superman, e torno su. Ok? Qui. Non ci serve. Bene. Io ho uno spazio un pochino limitato, spero che vi riusciate a vedere un pochino tutti i movimenti. Oggi è il fiatone, sarà fantastico! Iniziamo. Io uso un'app, che è un timer, ma non ho un'app particolare, è semplicemente timer tra le app. e cercate timer e decidete voi i tempi, ma comunque questo workout lo facciamo insieme. Quindi, iniziamo. Pronte per 30 minuti. Io mi tolgo questo. Tutto bene. Let's go! Scendo il plank, torno su. Fatto. Plank, torno su. Mi raccomando, quando arrivate qui, trovo la posizione e salgo. Plank, torno su. Dai, dai! Quanto manca! Olè! Pausa! Ok, ora Jumping Jets. Poveri vicini di sotto. Io devo sopportare i mariachi durante la giornata. Adesso non si sentono, ma è ancora mattino. Quindi, qualcuno può sopportare qualche mio saltino. Vai! Jumping Jets. Mi raccomando, movimento rapidi. Iscriviti. Pausa, mountain climber e plank jack, yes, porca chiama, quindi posizioni plank, 1, 2, 3, 4, torni dietro, jack, 1, mi raccomando, rimanete in plank, non salite, non scendete, col sedere, piuttosto fermatevi e ricominciate, fatelo più lento, vai, 5, 3, 2, 1, ora, ora che, front kick jump, si, mi raccomando, questo è un pochino difficile all'inizio, non perdetevi l'animo, trovate il ritmo, vai, vai che siamo a metà, vai, 7, 6, 3, 2, 1, ok, forza ragazze, ci siamo, forse, no scherzo, ora abbiamo con il diet d'asta sinistra, provo a farlo qua, se non distruggo casa, non ci sto, non lo metto così, ok, quindi, movimento un po' più controllato, mi raccomando, piuttosto fatelo lento, ma controllatelo, qui, passo sotto, rimanendo la schiena parallelo al pavimento, e giro, passo sotto le gambe, 5, 3, 2, 1, ok, e ora i barbies, yes, burpees, in realtà, al pepetto di burpees, allora, 4 skip, burpee, superman, ok, 1, 2, 3, 4, scendo, 1, 2, 3, 4, scendo, 1, 2, 3, 4, scendo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 5, 4, 3, fate l'ultimo, 2, 1, primo giro finito, pausa, non è, si ricomincia da capo, walking plank con jump squat, in 3, 2, 1, go! Vai, 5, 4, 3, 2, jumping jacks, yes, respirate, 3, 2, 1, go! 10, dai, 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 non mollate, 3, 2, 1, ok! 10, dai, non mollate, 3, 2, 1, 2, 3, 4, jump, jump! 1, 2, 3, 4, apro e chiudo, apro e chiudo, 2, 3, 4, apro e chiudo, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondi, 2, 1, ora abbiamo il salterino, giusto? 3, in 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Dai, 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 2, 10, 2, mollate, 1, stop! Coniglietto, coniglietto, coniglietto sarà anche un pochino per recuperare, go! 20, dai, dai, che abbiamo quasi finito! 10, 6, 5, 1, ci manca il salto di barbies e questo giro è finito! 10, e andremo avanti, siamo into casa, 3, 1, go! 1, 2, 3, 4, incendo, su, torno indietro! 1, 2, 3, 4 vai, vai l'ultima raga 3, 2, 1 respiro incominciamo subito con il terzo giro ragazze ce la stiamo facendo siamo quasi alla metà facile no? walking plank con squat in 3, 2, 1 go per arrivare bene in squat qui datevi un po' una spinta ok? vi aiutate dandovi una spinta qua finale che le butti indietro vai, 10 dai, dai, ragazzi siete grandi 5 3 3, 2, 1 yeah jumping jacks acqua please comodo ho 10 secondi mi avevo dopo ok, ho capito 3, 2, 1 go vai, vai che questo è un po' di recupero 20 vai, vai che sei a metà vai 10 8 5 4 3 2 1 acqua quando mentre mi alleno bevo pochissima anche se non mi sale tutto mountain climbers e plank ok? in 3 2 1 go 1 2 3 4 dietro jump 1 1 2 2 10 secondi ragazzi dai 5 3 2 1 uh vi comunico che abbiamo ufficialmente superato la metà questo momento io penso ok ora dalla fine sarò doppiamente stanca solitamente non aiuta però è vero jump 3 2 1 scusate 2 2 2 3 dai che ora di adesso l'avete capito e questo vi starà piacendo no chi è aspetta sì vai scendo ragazze un secondo ok vai vai ragazzi continuiamo non è successo nulla ma sì vai ho perso un po' il ritmo ok side to side kick in 5 4 3 2 1 1 non è realtà ci sto guarda vai che manca 10 secondi ok 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 aspetta aspetta oddio cosa abbiamo mi sono persa 1 ah ok si scusate 1 2 3 4 2 3 2 3 4 5 6 6 6 6 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 28 25 26 25 26 26 cerchiamo di mettere questo così almeno 90 perché pescola tutto jumping jacks in 3, 2, 1, ramados vai, vai, mancano 10, 9, 7, vai, 3, 2, 1, ok ora abbiamo mountain climbers and climb jack in 3, 2, 1, go 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 vai, vai che siamo a metà 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 si ritorna in piedi jump jump dai dai ragazzi abbiamo superato abbiamo fatto il giro di boa ci siamo quasi in 3, 2, 1 speriamo che ne arrivi un altro corriere vai, vai 20 secondi sono passati ci siamo quasi vai vai 10 non mollate non mollate ora 3 2 1 dai ragazzi ci siamo quasi manca veramente pochissimo più o meno le taglie ok con il vietto d'asse sinistra in 3 2 1 ragazzi 10, 7, 6, 2, 1, finiamo anche questo circuito, skip e barbees e superman. 3, go, 1, 2, 3, 4, mi raccomando ora quando salite non fate questo, spingeteli piuttosto sulle ginocchia, mi tiro su. Grazie, ci siamo, abbiamo raggiunto l'ultimo giro, ci stiamo allenando da 24 quasi minuti, ultimo giro, ultimi 6 esercizi ed è finita! In 2, 1, ora mi ricordo, vai, vai che è l'ultima volta che si fa, oh via! Dai, dai, 20 secondi sono passati! Vai, 10, 5, 3, 2, 1, addio l'esercizio! Ci vediamo, forse, tra un po' ora, jumping jacks! Sorsino! Ti sei tantissimo! In 3, 2, 1, go! Vai, 20 secondi sono passati! Vai, 10, 9, 5, 4, 2, 1, ok! Ok? Mountain climbers and blackjack! Yeah! Ok! In 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4, da-ta-ta-ta-ta-ta! 1, 2, 3, 4, da-ta-ta-ta-ta! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sedere basso, mi raccomando, 1, 2, 3, 4, vai, 3, 2, 1, i front kick, però sono gli ultimi, gli ultimi 40 secondi di questa settimana in cui farete front kick, bello, un'attima prospettiva, in 3, 2, 1, 1, vai, vai, 30 secondi, dai, dai, siamo quasi a metà, è quasi finita, finita, 20 secondi, vai, 10, 9, 7, 5, non bollate, non bollate, so che, 1, bella faccia, side to side kick through, quinto esercizio, abbiamo quasi finito, in 3, 2, 1, non ci sto, vai, 20 secondi, 20 secondi è quasi finita, 10, 5, 3, 2, 1, morta, ragazzi manca l'ultimo ever esercizio, l'ultimo, diamo il massimo, è finita, veramente, in 3, 2, 1, go, 1, 2, 3, 4, scendo, superman, in su, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 20 secondi, e magari, beh ragazzi, mancano 15 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, facciamo l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo per la gloria, oh yes, che bomba, ok, ragazzi, se l'avete fatto tutto insieme a me e avete sudato con me fino all'ultima goccia, siete delle grandi, siete delle grandissime e delle forze, perché questo era veramente bello, tosto, intenso, io adesso mi butto così in doccia, butto tutto a lavare, soprattutto i capelli, pazzesche, e basta, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se ne vedete altri, a quanto pare ho una location che si presta, figo, non lo sapevo, quindi super, super, soprattutto per gli elementi cardio, che tendo a non volerli fare in palestra, e basta, se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Grazie a tutti!